Prima di iniziare volevo ricordarvi di iscrivervi al mio canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei miei video Grazie a tutti coloro che lo fanno o che lo faranno e buona visione Hello guys benvenuti al nuovo video di Fall Guys Ultimate Knockout Ok oggi ho visto il nuovo shop e devo dire che è fantastico c'è Allora abbiamo il personaggino Adesso non voglio di inaccavoli No no anzi sono praticamente quasi sicuro al 100% che questo sia il personaggino di Portal Gun Di Portal Gun 2 di preciso Perché non mi ricordo se nell'1 c'erano questi A parte che non ci ho mai giocato a Portal Gun 1 bro Non mi ricordo se nell'1 c'è Ma comunque vi assicuro che questo è il personaggino di Portal Gun 2 Ed è felissimo costa 5 corone Io lo vorrei assolutamente prendere Però purtroppo ho solo una corona Potrei provare a vincere Però devo vincere altre 4 partite Non è facile Comunque magari in off camera Proverò a fare qualche partitina per provare a vincere Perché cioè è fantastica questa skin Comunque poi cos'è che abbiamo Abbiamo un emote nuova Ok abbiamo questo emote Abbiamo un costume E' leggendario Attenzione è la parte inferiore di Di questo Oh mio dio è davvero molto molto figo Poi abbiamo i soliti costumini e robe così Questo non ho ben capito cosa sia E' un pattern Ma per le mani Vi giuro che voglio soltamente prendermi sta cosa qua E oggi proveremo insieme Anche magari off camera Proverò a vincere qualche partita Ok Abbiamo finalmente un giochino nuovo Diciamo iniziale No perché ovviamente l'ho già giocato Zizi Hates E diciamo che è la prima volta che mi appare Tra i primi giochi In senso che ci sono Di solito mi appareva sempre tra l'ultimo Ok No non ci credo Là c'è già uno che lo ha Quel cast skin Ok fighissimo Dobbiamo Eh però in effetti è abbastanza difficile Per quanto riguarda la massa Ok allora Dobbiamo specialmente schivare le palle Attenzione qua Ok Vai 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 Qui mettiamoci qui Vai vai Adesso spara Adesso spara Guardate che timing mi spara Ok no non mi ha sperato Perfetto Allora Alte girelle Avanti Uh Attenzione Stavo per cadere Vai Ok Abbiamo l'ultima parte delle palle Che dobbiamo schivare Uh Attenzione Qua veramente mi ha fregato davvero tante volte Fortuna che mi sono ricordato di sta parte Ok Allora Dovremmo essere qualificati Attenzione qua Ok Ok siamo qualificati GG Perché voglio vincere sta coroncina Per sbucare Il costumino Poveretto quello No Ma che sta fa No vabbè che Poveretto No Allora il prossimo è Jinxed Ok a squadra In pratica dobbiamo Dobbiamo evitare di farci prendere È tipo Acchiappa tutti no Ok dobbiamo evitare di farci prendere Ok vai Vediamo un po' Allora quelli due in alto Sono quelli presi Ok Vai vai Allora attenzione Scappiamo da questo Assolutamente No attenzione Qua c'è No 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 Aspettate Aspettate Il giallo ovviamente Non deve prendere il nostro Ok Ok intanto possiamo iniziare a camperaggio Oh mio dio Che salto ho fatto Tu Tu puoi andare anche giù Grazie Perfetto Uh no attenzione Ok no mi ha preso Ok ok andiamo verso il blu Andiamo dei blu Andiamo dei blu Qua ci sono un sacco di blu Attenzione Tu No L'ho quasi preso Che capo Ok attenzione Tu Vai 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 Che ti ho preso Ti ho preso Ti ho preso Perfetto Ok preso Attenzione a quello Ottimo ho preso anche lui Vediamo quali sono gli altri Rimasti Ok Ne vedo uno là Ok attenzione Vai un po' più di massa Di cattiveria Prendiamolo Presi Ok qualificato GG Jump club Ok Ok di solito questo giochino Si trova Verso la finale Ma in questo caso È molto prima Ok Allora qui bisogna stare Semplicemente attenti A quando Le due Le due pale Due bastoni Si avvicinano Tra di loro Ok in questo caso Vedete Tipo Allora Non so se ci sono le zone Che cadono qui O semplicemente Il bastone gira Sempre più veloce Allora Se non cade niente Dovrebbe essere molto più easy La cosa Dobbiamo semplicemente Stare attenti Stare attenti Che non si allineano Le bastoni E via I tubi Come volete chiamarli Avete capito No Ok qualificato È stato molto semplice Devo dire Quale prossimo gioco Tipto Al primo colpo Potrei provare A tirare dritto Magari La becco No ok 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 qui forse hanno già trovato la strada Magari è tutta dritta No Non è tutta dritta No Credo che si vada Ok di là Perfetto Qua Qua Ok Dritto Perfetto Uh Ok ok No Madonna Stavo per cadere Stavo per cadere Attenzione Attenzione qua Siamo quasi arrivati No mi hanno fatto cadere Ok Veloce Eh niente Mi sa che non siamo riusciti a qualificarci Esatto Eh Sono caduto purtroppo all'ultimo Quindi Niente da fare Ok proviamo un nuovo match Vai Sono carico Pronto Dizzy Higgs Ancora Ok Seconda partita ancora Dizzy Higgs Ok ok Higgs Non è Higgs Higgs Ok Forza Mamma mia La skin del robot La troppo figa La vorrei prendere Non è qua Lo schiamo tutto Ok Vai Ok Allora Dobbiamo fare attenzione alle palle Ora Ok Passiamo qua in mezzo Vai Uh attenzione Ok Vai qua ora Ottimo Uh ok Stavo per cadere lì Ricordiamoci qua di saltare Perché La maggior parte delle volte Ci frega Azione No ho sbagliato Mannaggia Ho faccio la fin di quello là Ora Ok no Torni qua Ok Schiviamo qui Uh Donna che schivata Assurda Vai Ok Qualificato Ok Roll out Prossimo giochino Roll out Dobbiamo solo stare concentrati E questa modalità diventa abbastanza semplice No Non qua Ok Ora qui Aspetto No Non qua Aspettiamo ancora un pochino Ok Qua ora Eh No Non cambiamo ora Ok Magari possiamo cambiare anche adesso Attenzione Ok Cambiamo qui Che se giuro che se perdo perché mi hanno spinto No Oh Giuro che se cado perché mi hanno spinto Lancio qualcosa Lancio il joystick Eh Qua è dura Qua è dura Attenzione Cambia Ok Cambia ancora Ancora 4 Devo essere eliminati Ok Vai Diventa sempre più difficile la cosa In realtà basterebbe Ok No Andiamo in questa Perfetto Ok Ora Diciamo che per un po' siamo ancora salvi Perché non vedo difficoltà ora Nel dover cambiare Ok Ancora uno deve essere eliminato Attenzione Tra un po' si cambia Ora si cambia Andiamo subito a cambiare Ok Vai Perfetto Qualificato Nice Brute shoot Ok Vai Pronti Vai Di potenza Allora Allora Attenzione qua No scendiamo qui Ok Allora Allora io in realtà potrei provare a stare anche a centro Però Devo semplicemente schivare Le palle Le palle Ma al centro si può stare No Oh mio dio Ok No 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 Non così Attenzione salta qui Ok Una banana è rimasta incastrata Ah mannaggia Ok Attenzione siamo veramente indietro Dobbiamo cercare di andare più veloce Perché siamo veramente indietro No eliminato Mannaggia Dovevo farmi colpire Allora magari io proverò in off camera A vincere qualche partita In modo da riuscire a sbloccare questo Robottino qua Magari anche la parte sotto Perché no Però dovevi vincere 10 partite Non è veramente semplice Ok ragazzi Per questo video è tutto Entro la fine di quest'anno Dovrebbe uscire Pokemon La versione completa di Pokemon Xenoverse Quella creata da Widdle Andate a vedere il suo canale YouTube Se vi interessa appunto È un Pokemon fan made Che appunto volevo provare a giocare E appena uscirà Vi porterò sul canale Pokemon Xenoverse Perché secondo me Dai trailer È un fan made Fatto davvero bene Con la grafica Stile bianco e nero E niente Sono curioso veramente di provarlo Quindi Ci seri back al prossimo episodio Bella ragazzi Ciao a tutti 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 Ciao a tutti